Namaste dalla tua docca Antonia. Oggi voglio raccontarti una storia che viene dalla mitologia dei nativi americani. Una sera un anziano capo Cherokee raccontò al nipote la battaglia che avviene dentro di noi. Gli disse, figlio mio, la battaglia è fra due lupi che vivono dentro di noi. Uno è infelicità, paura, preoccupazione, gelosia, dispiacere, autocommiserazione, rancore, senso di inferiorità. L'altro è felicità, amore, speranza, serenità, gentilezza, generosità, verità, compassione. Il piccolo ci pensò su un minuto e poi chiese, quale lupo vince? L'antipo anziano Cherokee rispose semplicemente, quello a cui tu dai da mangiare. In ognuno di noi esistono due lati, luce e tenebre, tristezza e felicità. Yin e yang direbbero gli orientali. Non è possibile cancellare una di queste parti, non è possibile eliminare il nostro lato oscuro, ma quello che possiamo fare è fare del nostro meglio ogni giorno, nutrire ogni giorno il lupo della felicità, dell'amore, della gentilezza e vivere quotidianamente quindi con il compagno scelto, con il lupo dell'amore, della positività, della compassione. Vivere ogni giorno in maniera felice, vivere ogni giorno nella luce. Tutto questo dipende da te, dipende da me, dipende da ognuno di noi. Quindi oggi voglio lasciarti con una domanda. Quale lupo vuoi nutrire? Con quale compagno vuoi viaggiare ogni singolo giorno? Quali emozioni vuoi condividere? Quale sensazioni vuoi sentire? Pensaci su e rispondi a te stesso in pura onestà. Namaste.